Non ci sono casi di positività al covid-19 sui 670 tamponi analizzati nella giornata odierna. In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati complessivamente 3.282 casi di positività al covid-19 diagnosticati nei laboratori di Pescara, Teramo, Chieti e L'Aquila. Altra notizia positiva è che non si registrano nuovi pazienti deceduti. Il totale è fermo a 460 invariato rispetto a ieri, 2431 sono i dimessi e i guariti, 2318 le persone negative a due test consecutivi. 46 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia non intensiva, 3 invariato rispetto a ieri, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 342, sempre numero invariato rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati così sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi dei guariti e dei deceduti e di 391 con una diminuzione di 3 unità rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 245 si riferiscono all'ASL Avezzano sul Monal Aquila, 832 a quella a Lancianova Stochieti, 1543 all'ASL di Pescara e 662 all'ASL di Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 99.976 test di cui 93.861 sono risultati negativi.